domanda sul cosmo. Noi siamo all'interno di un triennio 2020-2023 di seminari dedicati al tema Origins, le grandi domande sul cosmo, vita e intelligenza nella scienza, nella filosofia e nelle culture. Questo primo anno è dedicato alla domanda sul cosmo e a partire dal primo incontro con il professor Benvenuti abbiamo ascoltato quello che ha da dire sull'origine del cosmo la cosmologia scientifica. Nello scorso seminario, venuto dal professor Timossi, invece abbiamo ascoltato quello che è la filosofia ha da dire sull'origine del cosmo e quindi le grandi domande e le grandi categorie filosofiche a proposito dell'origine del cosmo. Oggi potrebbe apparire piuttosto strano, piuttosto particolare interrogare il mito, ma invece vedremo come, proprio dal mito, abbia un'origine molte delle categorie anche filosofiche che innervano, per così dire, la nostra comprensione del cosmo e delle grandi questioni. Quindi questo terzo incontro, questo terzo seminario tenuto dal professor Panaino, si concentrerà appunto su cosmogonie e nutri sulle origini della storia delle religioni. Prima di iniziare volevo salutare, ecco vedo che si è collegato anche il professor Timossi, che saluto ed è il nostro Presidente del nostro Consiglio Scientifico. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. E volevo sentire Giovanni Amendola, che ha recentemente discusso la sua tesi di dottorato di teologia, una tesi del titolo Prolegomeni per una religione all'altezza di una rivelazione ebraico-cristiana, dall'intelligenza artificiale all'intelligenza agatica del loro sincarnato. Quindi congratulazioni a Giovanni per questo... Grazie Stefano. Buongratulazioni. Grazie, grazie. E vengo quindi a una brevissima presentazione del nostro relatore, appunto il professor Panaino, professore ordinario di psicologia, religione e storia dell'Iran presso il Dipartimento di Piani Culturali dell'Alnomata Studiorum Università di Bologna. Le sue ricerche si sono precocemente rivolte verso la storia linguistica, religiosa e culturale del mondo iranico pre-islamico, e ha intrapreso uno studio sistematico della cultura religiosa zoroastriana con particolari interessi per l'uranografia e l'astronomia iranica, dalle epoche più antiche ai primi secoli posteriori alla caduta dell'impero sasanico. Si è anche interessato delle più recenti problematiche emerse nell'ambito della linguistica storica e moderna. Sarebbero tantissimi i titoli, le onorificenze, i successi accademici di pubblicazioni, io cito semplicemente l'appartenenza prima come membro, poi come segretario e poi come presidente della società iranologica europea, molti impegni all'estero, in Francia, in Inghilterra, a Barbard e una laurea onoris causa di cui è stata insegnata nel 2011, una laurea onoris causa in lettere presso la New Bulgarian University di Sofia. è stato presidente dell'Associazione per lo studio in Italia dell'Asia Centrale, che è qui il Caucaso, e dirige due collane scientifiche di orientalistica presso l'editore Mimesis, che è la collana iranica e orientale del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna. Non posso qui citare tutte le pubblicazioni del professore perché sono un numero ingente, ma cito le ultime due monologiche che avevamo tra l'altro ricordato poc'anzi, i nomi di immagini evangelici, un'indagine storico-religiosa uscita per i tipi di Mimesis nel 2020 e dello stesso anno Old Uranian Cosmography, Debates and Perspectives. Io ringrazio ancora il professor Panaino di aver accettato il nostro invito e mi scuso in anticipo perché adesso le do la parola e il suo intervento durerà un'ora o un quarto. Se fossimo state in presenza le avrei fatto un cenno 5-10 minuti prima della conclusione. Essendo a distanza dovrà intervenire, mi scuso in anticipo per un'eventuale interruzione, ma semplicemente per darle il riferimento temporale quando sarà il momento poi di avviarsi alla conclusione. Detto questo la ringrazio molto e le cedo volentieri la parola. Perfetto, io ringrazio innanzitutto il collega e il mentore di questo evento che è il professor Pansella Litti, che ho avuto il piacere di conoscere ad Eranos, ad Ascona, qualche anno fa e sono contento che un dialogo che è iniziato allora sento un ritorno. C'è qualche problema di audio, vero? È preferibile che tutti spengano il proprio microfono. Si sente meglio? Perfetto, grazie. Ecco, abbiamo evitato l'eco. Quindi volevo ringraziarlo e volevo ringraziare la Pontificio Università della Santa Croce con la quale io spero il mio dipartimento, in particolar modo io e anche i giovani colleghi che ho invitato così oggi a partecipare all'evento, possano continuare a dialogare in un lavoro scientifico ma anche in un lavoro di crescita. Ringrazio per la presentazione che mi è stata fatta. Aggiungerei a questa, magari per gli astronomi, il fatto che sono un collaboratore ormai assiduo del Max Planck di Berlino nell'Istituto di Wissenschaftsgeschichte che quindi può essere, come dire, un ulteriore punto di riferimento o di contatto importante tra epistemologie diverse, ma soprattutto volevo dire che mi diverto ancora un sacco a studiare e quindi è questa che forse è l'autopresentazione migliore, cioè quando arrivati anche a certi risultati e riconoscimenti uno non si sente imparato, come direbbero in altri contesti, ma come dire, si mette sempre in gioco e ha nuovi studi, nuovi orizzonti scientifici da perseguire. Detto questo, devo dire che l'invito che io ho avuto a trattare l'argomento il cui titolo recita cosmogonie e miti sulle origini nella storia delle religioni all'inizio mi ha fatto tremare, nel senso che con Don Tanzella io ho detto ma come riusciamo in meno di due ore a toccare un argomento che non basta a un corso universitario nel senso che se anche avessimo qualche mese a nostra disposizione francamente saremmo in difficoltà. Lui mi ha detto ma lei ha vinto un po', non dico la pigrizia, ma la necessità di fare un salto e di trovare degli elementi che io ho cercato di immaginare utili per un uditorio tra l'altro trasversale, perché una cosa è parlare a un gruppo omogeneo, un'altra è parlare a un gruppo con esigenze culturali diverse, insomma è un po' come cucinare un piatto che debba andare bene a tutti, insomma richiede un po' di fantasia. Io questa fantasia l'ho utilizzata innanzitutto con una premessa di ordine metodologico. La prima cosa appunto io mi limiterò a passare in rassegna a quelle che sono le grandi civiltà del mondo antico, grandi non perché ad esempio quella dei Maori o alcune civiltà dell'Africa o dell'Amazzonia siano meno importanti o meno interessanti, ma ho dovuto fare una scelta diciamo così dettata dal buonsenso, cioè quella di lavorare su cosmologie, cosmogonie, teogonie che fossero relativamente antiche, che avessero prodotto un impatto significativo nella storia della cultura e in particolar modo un impatto sul mondo e sui mondi che a noi sono più vicini e quindi è chiaro che se questo seminario avesse luogo in Centrafrica o nel Sud America sarebbe impostato diversamente, perché io in questo caso ho un occhio di riguardo alla dimensione europea e ai temi che a noi sono più vicini. e inevitabilmente noi dobbiamo prendere atto che l'attestazione scritta di miti, di fonti così articolate ci permette delle comparazioni e delle riflessioni più estese e anche più sicure. nel momento in cui dovessimo trattare per dire della figura dell'essere supremo in un contesto come quello dell'Oceania innanzitutto saremmo costretti a tutta una serie di premesse, premesse linguistiche, premesse antropologiche ma anche premesse etno-culturali relative al fatto che noi occidentali ci consideriamo belli, buoni, giusti e portatori di valori, ma ad esempio che siamo stati inevitabilmente degli sterminatori. Se voi pensate che in Australia della ricchezza linguistica e quindi mitologica, etnica, culturale noi abbiamo un residuo minimale dovuto a un genocidio sistematico ricordate che la civilissima Australia, membra del Commonwealth e devo dire cristianissima sotto una regina che ovviamente dovrebbe rappresentare dei valori particolari ha stabilito che gli aborigeni australiani fossero esseri umani solo nel 1974. Quindi io ricordo, attenzione, che noi esportatori di valori poi a volte dobbiamo anche metterci davanti allo specchio e dire ma questi valori a che cosa corrispondono? E il loro mancato rispetto, quali conseguenze ha avuto? Ad esempio, sono cose forse meno importanti ma noi abbiamo distrutto decine di lingue che non esistono più perché il patrimonio etno-linguistico ed etno-mitologico dell'Australia è ridotto ai minimi termini che non c'è più niente da fare nel senso che non ci sono più gli attori viventi e quindi non c'è più una mitologia non ci sono più le storie non ci sono più le cosmologie quindi scusate questi riferimenti forse un po' un po' duri a quella che è la storia dell'umanità che talora si ritiene molto civile ma noi ci muoveremo soprattutto tra le grandi culture indoeuropea, semitica, egizia, mesopotamica con alcune estrapolazioni ma non potremo certamente dare pieno rispetto e contezza di un mondo che richiederebbe una trattazione separata chi avesse curiosità specifiche per una visione ancor più ampia ma si deve prendere almeno 4-5 ore per leggere un vecchio libro di un professore che forse alcuni di voi ricordano Ugo Bianchi che è stato professore alla Cattolica di Milano il quale scrisse negli anni 60 poi ristampato più volte un volumetto Teogonie e Cosmogonie qui ancora l'edizione originale degli anni 60 è un volumetto di 180 pagine che compatta ovviamente in parte superato perché ci sono 60 anni di distanza da allora però certamente dà ampia soddisfazione riguardo civiltà di cui noi oggi non potremo parlare quando io parlo di cosmologia ovviamente faccio riferimento all'origine del mondo all'origine di un mondo che è inteso appunto come cosmos parola che in greco significa ordine ornamento anche proprietà da cui attenzione l'uso della parola cosmesi la cosmesi è l'abbellimento perché mette in ordine il viso il corpo l'immagine e deriva da un uso antico greco che è del verbo cosmao che è mettere mettere in ordine che può essere un mettere in ordine cosmico appunto universale generale o anche un abbellimento individuale l'etimologia è discussa forse si può connettere al latino censeo quindi un verbo che significa pensare ritenere anche categorizzare e quindi riflette l'idea della cosmologia quindi di un ordinamento dell'universo un qualche ruolo trascendente e quindi inevitabilmente religioso ovviamente la parola cosmologia usata dagli astronomi ha un altro significato imparentato certamente ma con un'accezione molto più molto più neutrale ovviamente in questa in questa discussione non proverò a tessere o indicare rapporti tra le cosmologie astrofisiche e quelle religiose perché ci porterebbero a un altro tipo di seminario e perché non è strettamente la mia competenza volta a questi termini ma certamente le cosmologie ricorrono presso gli antichi al mito quindi ricorrono a una forma del discorso della parola perché poi mito vuol dire storia parola deliberazione ed è parola che purtroppo non ha un'etimologia sicura quindi ci muoviamo un po' nell'incertezza ma sappiamo che comunque il mito rimanda a una narrazione su un evento primordiale fondativo per una certa società che la ritiene sacra è di norma irripetibile a meno che non si abbia a che fare con riti ciclici o stagionali cioè riti che giustificano una serie di eventi che si ripetono nel corso della natura e che scandiscono la vita la vita umana ovviamente i miti cosmogonici contengono una verità primordiale propongono una verità primordiale sulle origini del mondo e talora in luce danno delle risposte cioè propongono anche un telos una finalizzazione verso la quale noi l'uomo o l'umanità dovrebbe tendere d'altra parte attenzione che l'enfasi romantica sulla eccezionalità del mito è stata nel corso della storia messa in discussione perché attenzione i miti fondativi e i miti soprattutto quando vengono reinterpretati e diventano identitari nelle società moderne sono strumenti fortemente politici ora anche se il lavoro di Ernst Cassirer il celeberrimo filosofo tedesco che fu rettore dell'università di Hamburgo poi come sapete costretto perché di origine ebraica a fuggire prima in Svezia poi in Gran Bretagna poi dalla Gran Bretagna negli Stati Uniti dove morirà nel 39-40 ci lascia un libro ancora acerbo in alcuni punti che però è quello del mito dello Stato dove Cassirer riflette sul mito antico e sulle conseguenze però attenzione del mito moderno cioè è importante per noi riflettere sull'uso strumentale delle cosmologie antiche e soprattutto dei momenti fondativi all'interno di una comunità perché con quelli persone abili nel manipolare le categorie del pensiero possono poi costruire delle operazioni politiche drammatiche pensate il tema è quello del nazismo quindi il mito della razza il mito di un ceppo superiore di esseri umani il mito di un atto fondativo di una divinità che avrebbe scelto solo alcuni lasciandone fuori altri perché inferiori e destinati ecco attenzione che gli uomini sono degli abili manipolatori e soprattutto sono grandi costruttori di affabulazioni ideologiche cioè i miti si ricostruiscono e anche reinventano per scopi politici qui è la grande lezione di Hobsbom quello storico anche lui di origine ebraica che ha scritto quel volume geniale il secolo breve per dirci che attenzione il novecento è stata praticamente la storia di un'unica guerra mondiale divisa divisa in tante in tante fasi ma che ha anche portato l'attenzione sull'invenzione della tradizione attenzione perché il discorso della tradizione è importante ma anche lì il buon senso cioè discernere tra una tradizione fondativa e costruttiva da tradizioni che sembrano utili per armare e colpire gli altri e questo tipo di malattia colpisce tutti io non ne ho parlato nel mio handout ma vi ricordo che nel mondo tedesco luterano a un certo punto prevale l'idea del Cristo ariano e attenzione non è un'idea banale semplicemente quella tradizione volgare diffusa nel mondo francofono del Cristo nato da una fanciulla che sarebbe stata violentata da un legionario quella è la versione volgare che è arrivata anche attraverso il cinema eccetera ma gruppi di assiriologi fortemente motivati iniziano a sostenere che il mondo palestinese avrebbe subito deportazioni sistematiche di ebrei e semiti e importazioni di popoli iranici quindi la mia disciplina viene coinvolta brutalmente per cui queste persone sosterranno poi con un'argomentazione che è archeologico genetica ovviamente tutte distorte ma che hanno giocato un loro ruolo a livelli intellettuali alti e quindi che sono cose poco conosciute diciamo al di fuori degli accademici per dire attenzione molto probabilmente la famiglia di Gesù era una famiglia di ari di ariani iranici probabilmente linguisticamente semitica voi capite che quando si gioca con queste cose ricordo che la chiesa luterana ha avuto una struttura durante il nazismo un istituto specializzato per la dimostrazione della arianità di Cristo è chiaro che voi avete a che fare con un mito per questo io dico attenti che l'esaltazione della mitologia il ricorso continuo brutale nella modernità peggio ancora nella contemporaneità ai miti ai miti di fondazione va sempre guardata con grande prudenza o almeno io ricordo sempre ai miei studenti che è bene conoscere questi problemi come è bene conoscere i protagonisti del dibattito perché noi leggiamo i libri di tutti soprattutto quando contengono dei dati importanti però dobbiamo sapere se poi uno ha giocato con le figure più sataniche della storia del nostro del nostro continente cioè la profondità sta nel sapere sempre come si collocano le storiografie perché le storiografie e soprattutto la storia delle religioni antiche non è neutrale è fortemente motivata è fortemente indirizzata e quindi è bene che noi di volta in volta possiamo circoscriverla su questo mi sono permesso come avete visto nel nello handout che vi ho mandato proprio a proposito dei problemi di ordine metodologico anche di ricordare attenzione che la storia delle religioni appunto non solo non è neutrale ma il suo l'approccio diciamo così distaccato è tendenzialmente interculturale non è facile non è facile perché io dico sempre ognuno di noi non può essere oggettivo cioè chi dice io sono aggettivo e neutrale al cento per cento sta dicendo una sciocchezza perché non è possibile il fatto di essere uomo e di non essere donna o di essere donna e di non essere uomo già ti mette di fronte a una sensibilità diversa che non vuol dire giusta o sbagliata ma che comunque è diversa il fatto di essere nato in una in un'epoca o in un'altra epoca cambia di essere nato in una famiglia valdese o in una famiglia cattolica o in una famiglia atea o ebraica cambia ci sono delle sensibilità delle memorie dei richiami così come l'aver attraversato dei periodi storici differenti perché poi noi vediamo che nel corso della storia le domande che i nostri maestri si facevano sono diverse da quelle che ci facciamo noi perché la sensibilità che noi abbiamo verso la storia anche verso la storia religiosa cambia perché cambia l'agenda culturale del nostro secolo come dobbiamo essere rispettosi quando imputiamo limiti al pensiero degli antichi domandandoci sempre vedremo che questo è fondamentale nell'ambito della discussione sulla creatio ex nilo se è legittimo porre delle dei quesiti che per noi sono scontati nel ventunesimo secolo a un uomo del secondo millennio avanti se ha senso lavorare lavorare in questo in questo modo e proprio per questa ragione io devo ricordare che il nostro è un paese che ha sofferto o di atteggiamenti laicisti alla croce per cui la storia delle religioni non andava insegnata nelle università perché andava dissolta all'interno della storia sociale politica atteggiamenti iper confessionali che ad esempio negli anni 50 volevano impedire al povero professor Pettazzoni di far tenere a Roma il grande congresso di storia delle religioni ci furono interventi pesantissimi dell'allora democrazia cristiana che temeva che in ambito vaticano ci fosse fastidio perché si riunivano tutti gli storici delle religioni del mondo capite e oggi questo non è più possibile per fortuna però i più giovani devono sapere che l'arrivo a una discussione serena è frutto di uomini e donne che si sono messi in gioco perché il dialogo scientifico fosse il dialogo epistemologico fosse serio e che quindi le diversità inevitabili venissero arricchite dalle sensibilità diverse quindi da approcci storici metodologici culturali differenti ecco tenete conto che inevitabilmente nel trattare di questi argomenti io devo attingere a una serie di temi che ovviamente sono stati oggetto di controversie scientifiche di dibattiti interpretativi di irritazioni talora su certi su certi temi che però noi cercheremo se non di superare almeno di presentare nel modo più rispettoso rispettoso possibile ecco ovviamente le cosmologie pongono subito un problema del con la parola cosmos dell'ordine rispetto al tema del del caos il caos parola sulla quale io mi sono soffermato abbastanza a partire dalla pagina 2 la pagina 3 dell'end out ricordandovi forse anche più avanti a pagina 5 scusate ricordando che la parola caos in greco perché la prendiamo dal greco quindi è utile anche contestualizzare non è una parola semitica non è una parola germanica è una parola greca è un neutro quindi interessante questo che viene personificato perché è un è una figura che esce dal processo autoprodotto di creazione seguita da uranos quindi il cielo da gaia da tartaros da eros quindi la forza propulsiva e creativa e caos è un abisso è una voragine un vuoto è interessante in questo caso ricordare l'etimologia perché probabilmente la parola è imparentata col greco caunos che vuol dire gonfio ma anche con parole che significano buco spazio vuoto come perché caunos ha anche quel significato e forse con una famiglia di parole che è nel germanico e nel baltico e che vuol dire palato quindi ha a che fare con una sorta di voragine che inghiotte quindi è un termine diffuso tra le lingue tra le lingue indoeuropee quindi il caos è un vuoto che va a inghiottire che va a prendere e quindi come tale spaventa perché è la contrapposizione rispetto al cosmos a un ordine che si pone dall'altra parte non solo un disordine ma addirittura un disordine implosivo e quasi permettetemi qui la battuta una sorta di anticipazione di un buco nero che si porta via tutto quello che c'è dall'altra parte è un palato una gola che fa scomparire è interessante come come intuizione quindi un abisso il tema dell'abisso tra l'altro lo vedremo ampiamente sviluppato poi nel mondo nel mondo semitico quindi dal punto di vista comparativo però vediamo che le varie civiltà del mondo antico hanno subito una grande percezione tra una armonia della natura dei suoi cicli ancora in corso di studio cioè l'umanità intraprende un lento cammino per dare ordine al mondo che la circonda ma capisce che esiste una relazione che va scoprendo sempre più con un cammino doloroso ma importante dal fuoco all'agricoltura alla scoperta di tanti aspetti della vita della vita quotidiana e poi di quelle che diventeranno le scienze dall'altra parte percepisce che questo ordine è sempre in discussione cioè che un ordine corre il rischio di essere distrutto o comunque scardinato da forze antagoniste e che quindi lo scopo dell'umanità è quello di garantire un equilibrio una bilancia tra queste due tendenze e uno degli elementi importanti ad esempio nella dottrina del sacrificio delle popolazioni che io conosco meglio quelle indoiraniche antiche è quella di garantire l'ordine cosmico cioè il rito la liturgia che cosa serve serve a mantenere costante l'ordine che rischia di esplodere garantire che il sole sorga tutte le mattine che le forze delle tenebre non riportino via in un caos indistinto ciò che prima era venuto all'ordine ovviamente per fare questo gli uomini offrono alla divinità o alle divinità ciò che ritengono immortale o indispensabile cioè il soffio ad esempio della vita degli animali quindi l'idea anche del sacrificio e dell'uccisione attenzione io non uso il termine immolazione perché immolare è una anche se noi lo impieghiamo in modo generico ormai immolare vuol dire una cosa molto speciale cioè spargere di mola salsa cioè di una salsa di una farina salata la testa degli animali che andavano a essere uccisi nel sacrificio romano cioè il cosiddetto suove tauriglia un maiale un capro un ovino ma non coincide con l'atto dell'uccisione attenzione quindi quando usate immolare anche in un contesto per dire religioso attenzione che l'immolazione è una cosa molto tecnica che ha a che fare col mondo romano che in molte civiltà non esiste e per questa ragione io non uso immolare se non quando ho a che fare con il sacrificio romano non gli altri ma comunque chiusa questa questa parentesi tecnica attenzione il sacrificio si connette alla cosmologia perché perché la cosmologia e il mito diventa fondativo del rito ma a sua volta il rito integra la cosmologia cioè uno dei grandi dibattiti è sempre quale rapporto sussiste tra la creazione di miti attraverso l'esperienza liturgico rituale dell'uomo che ha bisogno di un rito per sentirsi in armonia con sé e la realtà che lo circonda e in che misura il mito poi uniforma o determina il rito stesso esiste a mio avviso una dialettica difficile in alcuni casi da discernere ma abbastanza importante e così come molto diffuso il mio prossimo libro che uscirà a Parigi all'Ecole Pratique riguarda proprio questo riguarda il ruolo del sacerdozio cioè i sacerdoti nei collegi sacerdotali indoiranici antichi i quali sostanzialmente durante il rito creano un metatempo nel quale Aura Mazda e il suo corteo divino si incarna con il collegio sacerdotale umano cioè c'è un momento in cui il prete e il suo collegio con Aura Mazda e il collegio divino che lo circonda si sovrappongono in una unità strettissima cioè diventa un processo mimetico in cui il sacerdote incarna la divinità e la divinità incarna il sacerdote permettetemi indipendentemente un po' la riflessione che fa Jung quando scrive un libretto estremamente importante sulla messa cattolica è stato repubblicato come volumetto separato recentemente da Bollati Boringhieri in cui il momento della transustanziazione non è per i cattolici una ripetizione una evocazione o una simbolizzazione come in altre confessioni ma nel mondo cattolico e nel mondo ortodosso ancora di più diventa un mistero nel quale il sacerdote non dice fate questo in memoria di lui ma fate questo in memoria di me cioè c'è un un evento straordinario che addirittura gli ortodossi chiudono rendono inaccessibile a chi non è iniziato per potervi partecipare o almeno questa è una riflessione che viene proposta da noi storici delle religioni è un elemento comparativo che suscita che suscita interesse cioè il fatto che non non ci sia evocazione ma in quel caso appare una un evento un evento straordinario certamente altre culture religiose appunto si misurano quindi rispetto al tema del dialogo ordine disordine e del ruolo mediatorio del clero che continua a garantire attraverso il suo mettersi in gioco dico mettersi in gioco perché il sacerdozio in molte società antiche è rischioso nel senso che il sacrificio può distruggere chi lo fa male chi è incapace o inadeguato o impropriamente gestisce la liturgia viene annientato dal rito quindi un'idea sempre del tema ordine disordine così come all'ordine del rito corrisponde il tentativo continuo di farlo crollare far crollare il rito significa far crollare il mondo quindi ha un effetto cosmogonico con un impatto sulla sulla vita ma torniamo a questo punto all'elemento comparativo più generale quello diciamo così di una comparazione tra miti cosmogonici e cosmologici la cosmologia trasversalmente deve rapportarsi col problema del tempo che è un grande problema che hanno i fisici gli astronomi che è un problema di ordine filosofico ma è un problema profondo che noi troviamo maturato a un certo punto nelle società nelle società antiche devo dire molto di più tra mondo iranico indiano e greco a un certo punto l'attenzione cresce facciamo vi faccio un esempio il mondo il mondo semitico non conosce per mondo semitico non penso solo a quello ebraico ma trasversalmente al mondo mesopotamico che ad esempio ha un livello altissimo di attenzione ai fenomeni connessi con il tempo per dire il moto degli astri un livello già intorno al sesto secolo quinto secolo raffinatissimo nel calcolo astronomico con anticipazioni importantissime che poi influenzeranno l'astronomia greca ma non c'è una divinità del tempo se voi scrutinate le figure divine del mondo semitico del mondo mesopotamico del mondo assiro o del mondo sumerico voi non trovate un dio del tempo e questo è interessante cioè non si arriva alla definizione di un'astrazione questa la trovate in india laddove voi avete una figura come quella di Kala di cui trovate anche un'immagine poi nella sua paredra femminile cioè Kali che diventa come dea del tempo la dea nera della morte della distruzione ma attenzione Kala probabilmente dal verbo KAL calcolare è la divinità che scandisce il tempo il tempo cosmico che in india però prende un percorso molto particolare cioè il tempo in india verrà concepito in una visione ciclica quindi avremo grandi periodi detti yuga che scandiscono le età del mondo anche se poi alcuni dei parametri di calcolo utilizzati per questi grandi eoni indiani sono di origine mesopotamica perché sono tutti basati su numeri di tipo sessagesimale in ogni caso è interessante il fatto che nel primo millennio noi vediamo una chiara idea ciclica del tempo che ad esempio non non è attestata in Iran in Iran noi avremo invece una fortissima separazione innanzitutto tra l'idea di un tempo astratto e infinito cioè un tempo universale zurvan akarana cioè senza limiti e uno zurvan dal lungo dominio cioè del tempo in cui Dio ha creato una trappola per imprigionare il male quindi una riflessione sulla dialettica tra tempo dell'universo assoluto quindi è il tempo di Dio prima ancora che ci fosse il nostro universo e il tempo invece dell'universo nella dialettica dello scontro tra le forze del bene e le forze del male è un prodotto della tradizione iranica che alcuni studiosi ritengono aver influenzato le concezioni greche del tempo che ovviamente conoscono un chronos in epoca antica il quale come sappiamo a un certo punto viene confuso o avvicinato con chronos cioè con quella divinità che si deve ribellare al padre urano e che deve che a un certo punto castra per evitare che possa uccidere i suoi figli ma a sua volta chrono verrà sconfitto dal figlio che però in questo caso non lo uccide ma stabilisce un nuovo nomos lo riabilita e lo limita nelle sue nelle sue funzioni e in questo caso però chronos e chronos si sovrappongono nella tradizione mitologica ma forse non solo mitologica del mondo del mondo greco questo per dirvi che attenzione le riflessioni sul tempo avranno poi un significato enorme perché a seconda di come voi rappresentate con un'intuizione di tipo religioso e spirituale ma poi questa intuizione diventa oggetto metafisico di speculazione filosofica è chiaro che allora le categorie del tempo vanno a uniformare o giustificare il senso dell'esserci nella storia che non necessariamente fa parte della terminologia heideggeriana ma essere nella storia è un fatto che noi viviamo e per il quale noi dobbiamo poi compiere delle scelte ad esempio lo zoroastrismo in questa visione dice che l'essere dell'umanità nella storia ha un suo senso perché è nell'ontologia umana che si gioca la battaglia vera contro le forze del male delle tenebre cioè haremann viene sconfitto veramente solo nella coscienza dell'umanità quindi se l'umanità non attraversasse la storia con le sue sofferenze non potrebbe sconfiggere e alla fine liberare la realtà la realtà umana quindi c'è una cosmogonia con un'origine antica in un tempo che a un certo punto si separa dal tempo universale ma che alla fine si richiuderà ritornando a quel tempo a quel tempo universale è un po' il problema che anche a volte troviamo in Agostino cioè che cos'era Dio prima di creare per il mondo e qual'era il suo tempo cioè come qualificare il tempo prima dell'esistenza dell'esistenza umana della storia del moto degli astri che ovviamente i greci subito intuiscono essere connessa alla nostra percezione del tempo ecco io tra l'altro proprio per sottolineare l'importanza di Aion nello handout che vi ho dato a pagina 4 vi ho messo una bella immagine a colori del Dio Aion circondato dallo Zodiaco questa divinità voi la troverete trasversalmente dal periodo platonico in poi proprio come grande divinità trasversale del tempo attenzione la mitologia di Aion come quella di Zurban permettetemi una divagazione di due minuti ha impatto su alcune tradizioni cristiane proprio che hanno a che fare con i magi voi tutti ricordate che a un certo punto i magi evangelici vengono canonizzati in una tradizione nel numero di tre probabilmente per connessioni ai doni Matteo non dice quanti fossero però tre sono i doni e in molte tradizioni i magi sono tre ma si aggiunge una tradizione che voi ad esempio trovate in Marco Polo il quale dice che andando in Iran trova le tombe dei magi Marco Polo curiosamente non conosce i magi di Colonia e ci dice attenti ognuno dei magi sarebbe entrato nella capanna in questo caso parla di un luogo meno prestigioso il Vangelo dice oikia quindi in una casa sarebbe entrato al corpetto di Gesù e ogni mago vede Gesù della sua stessa età quindi il mago giovane vede Gesù bambino il mago di mezza età lo vede adulto uomo maturo il terzo più anziano vede un vegliardo i tre escono si raccontano quello che hanno visto rientrano e vedono il Pantocrator vedono Gesù come il Signore dell'Universo attenzione questa storia è presente in alcuni manoscritti bizantini che dicono le stesse cose 5-6 secoli prima è presente nei cicli iconografici delle chiese della Cappadocia ed è presente nel Vangelo armeno dell'infanzia dove si dice molto di più si dice che ogni mago entra esce e vede Gesù in un come lo hanno visto nella seconda o nella terza volta gli altri due magi sino a quando alla fine quindi al quarto giro tutti quanti vedono nuovamente Gesù nella sua forma di Signore dell'Universo ora come è stato spiegato questo tema nel fatto che da una parte noi abbiamo ogni mago che rappresenta una delle età della vita gioventù la fanciullezza le abitualità e l'età matura e quindi ognuno vedendo un Gesù simile a lui è come se accedesse a una percezione del divino ovviamente umana e limitata nessuno di noi può avere la cifra dell'universale nessuno di noi può pretendere di dire io ho la visione totale del divino ma c'è la grazia quindi la possibilità di accedere per volontà di Dio a una conoscenza superiore sino a quando il Cristo che in realtà in quel gioco di rispecchiamento si comporta come una grande divinità del tempo universale cioè come un cosmocrator assoluto quindi è il Dio che domina sul tempo e attenzione sia Aion sia Zurvan sono indicati come divinità che si manifestano sotto quattro aspetti temporali differenti quindi il sospetto che proprio in un dialogo tra Iran e Grecità intorno al tema del tempo ci sia stato poi uno sviluppo ad esempio proprio in connessione ai cicli connessi ai magi evangelici e alla figura di Gesù è un tema in cui voi vedete un elemento cosmogonico e cosmologico originario che trova poi una sua elaborazione in una vicenda narrativa che però è densa di implicazioni spirituali e che poi ovviamente servivano anche ad accrescere il dialogo tra culture religiose differenti quindi sotto sotto questo aspetto il tempo è un grande problema anche se oggi meno dibattuto nella nella teologia ma ricordo che negli anni sessanta un libro molto famoso di un teologo protestante Kuhlmann che forse alcuni ricorderanno Christ und Zeit Cristo è il tempo fece una uno scalpore enorme ci fu un dibattito molto importante trasversale nella nei livelli diciamo così più alti della cristianità su Cristo è il tempo devo dire che Kuhlmann seguendo in verità degli stimoli già di fine ottocento presenti in una grande opera di storia delle religioni quella grande enciclopedia che si chiama Religioni in Geschichte un Gegenwart che è una delle opere a cui tutti gli storici delle religioni fanno continuamente riferimento ecco c'erano già in nuce dei temi che Kuhlmann riprende e che curiosamente dicono attenzione il cristianesimo come una parte dell'ebraismo dialoga con l'Iran con l'Iran paradossalmente degli zoroastriani proprio su questo tema significativo del del tempo ma torniamo alle teogonie quindi alla questione che per noi è più più significativa abbiamo detto che più o meno tutte le civiltà non solo hanno il problema di immaginare un tempo prima del nostro tempo e se si può parlare di tempo ma di immaginare un rapporto tra un caos primordiale e un ordine cioè qual è la dialettica che l'universo ha imposto e come è stata è stata spiegata ecco vediamo ad esempio che il mondo greco ci mette di fronte a una sequenza di uccisioni a una sorta di partenogenesi dall'universo per cui autonomamente emergono delle divinità tra cui anche il caos che si scontrano e tra di loro fino a quando non si arriva a una divinità normativa che diventa Zeus una sorta di sovrano modello anche di una società più ordinata che impone un ordine quindi così come si crea un ordine sociale si viene a determinare un ordine un ordine cosmico e la stessa cosa avviene nel mondo nel mondo mesopotamico io vi ho citato alla pagina 6 del handout dunque non solo vi ho messo un'immagine di una figura divino demoniaca come Tiamat che è centrale nella nostra riflessione ma vi ho citato una delle opere diciamo così che già sistematizzano intorno alla fine del secondo millennio agli inizi del primo la teogonia e anche l'interpretazione cosmogonica del mondo cioè le Numa Elish testo che vuol dire quando in alto e inizia proprio così quando in alto il cielo non esisteva ancora né esisteva la terra sottostante l'oceano di acqua dolce Apsu era lì la prima la genitrice Apsu e Tiamat il mare salato colei che aveva portato tutti loro e mescolarono costoro le loro le loro acque quindi noi abbiamo Tiamat che è una figura una figura primordiale che a un certo punto si accoppia con questo Apsu per generare una nuova stirpe di esseri primordiali e sono gli esseri che poi appaiono come i più importanti nella mitologia mesopotamica cioè Ea An o Anu il cielo Tiamat però entrerà in conflitto con Marduk che è figlio di Ea e quindi vediamo anche qui come nel mondo greco con la figura di Zeus una divinità regale e normativa Marduk si pone come un re del Panteon che mette ordine e che quindi si contrappone alla figura divina di una natura primordiale la uccide ne strappa le carni e le pelli con le quali tende il cielo attenzione questo mito avrà una diffusione molto importante sia perché la parola per Tiamat è imparentata secondo i filologi semitici con l'ebraico Tehom cioè il termine per l'abisso che troviamo in Genesi sia perché ad esempio il collega Burkert il compianto professor Burkert che insegnava storia della religione greca a Zurigo e di cui voi avete in italiano ad esempio diverse monografie una in particolare che è la storia della religione greca ma anche un libro sul tema della uccisione sacrificale dal titolo Homo Necans cioè l'uomo che uccide che è un saggio importantissimo sull'antropologia del sacro ecco per Burkert la divinità greca arcaica Teti o Tetide è etimologicamente imparentata io vi ho già vi ho messo ma non sto a dilungarvi per non portarvi via tempo una serie di riferimenti linguistici che permetterebbero di mostrare che un mitema importante del mondo mesopotamico gioca su più ambiti e che trova una corrispondenza nel mondo nel mondo ebraico nell'immagine dell'abisso ma anche in quella in quella del mondo del mondo greco e che quindi esiste una circolazione di idee e una maggior integrazione tra culture del mondo antico perché sono culture estremamente evolute civilizzate capaci di produrre letteratura tanto scritta quanto orale e di avere fenomeni di integrazione molto elevata il mondo mesopotamico poi e questo non possiamo dimenticarlo è sempre in omaggio agli amici astronomi è quello che ci dà sostanzialmente la prima chiara distinzione nelle fonti tra le stelle e i pianeti i greci arrivano tardi ad avere chiara in mente la differenza tra una stella e un pianeta Platone in alcuni dialoghi palesemente parla con persone che non hanno ben chiaro che cosa sia un pianeta e che un pianeta segue regole orbitali completamente diverse che una cosa sono le stelle fisse e un'altra è il pianeta che fa l'atto di planaumai cioè di muoversi rispetto al nostro punto di osservazione e quindi è la cultura che ci dà la distinzione delle costellazioni dello zodiaco e quella che introduce con l'uso dei 360 gradi attenzione quella che ci insegna che un angolo giro fa 360 gradi perché l'astronomia mesopotamica si basa sul calcolo sessagesimale ora se noi usiamo il calcolo sessagesimale perché lo fanno i greci ma i greci lo fanno attenzione perché lo prendono dai babilonesi non è che se lo inventano loro da soli in quel caso noi abbiamo un impatto culturale differente il fatto ad esempio che cronos cioè saturno sia associato al sole della notte come viene chiamato nelle fonti astrologiche greche esattamente come lo fanno qualche secolo prima così come lo fanno i babilonesi quindi attenzione esiste un dialogo provato di culture che non è basato sulle inferenze esteriore cioè quando voi vedete dei metodi di calcolo che sono sostanzialmente gli stessi è difficile che uno li abbia inventati contemporaneamente e molto in quel caso è molto più probabile che si tratti di metodiche di epistemologie che sono state trasferite attraverso la frequentazione d'altra parte è Ptolemeo a dire che ha utilizzato cataloghi dei suoi predecessori quali a loro volta però utilizzano le tavolette le tavolette mesopotamiche questo per dire che attenzione noi abbiamo un trasferimento di di conoscenze così come però non dobbiamo attribuire agli antichi quel che gli antichi non potevano sapere ad esempio è una cosa di cui su cui io mi sono intrattenuto proprio parlando del tema della costruzione dell'universo e anche dell'armonia dell'universo ecco qui noi dobbiamo frenarci rispetto alla tendenza moderna occidentale e basata sulla cultura greca di pensare che gli antichi e che le cosmologie antiche seguissero le nostre regole un errore tipico che facciamo sia come storici delle religioni sia fanno i colleghi delle scienze esatte ad esempio è quello di parlare della del cosmo ordinato degli antichi in termini sferici cioè la sfera dei sumeri la sfera degli egiziani alt allora noi dobbiamo tener conto che nella cultura europea a volte troppo idealista si pensa che l'uomo nasca con l'idea della sfericità del cosmo a priori ma quella è un'acquisizione dovuta alla fisica alla scienza alla matematica alla geometria cioè immaginare un mundus regolato dalla trigonometria non è una cosa in natura è frutto di un cammino secolare dell'umanità i greci ci arrivano con Pitagora e iniziano a definire con il termine sfera una sfera celeste attenzione in Omero Paizein cioè giocare Sfaira con lo iota sottoscritto al dativo e giocare a palla non è giocare con una sfera è una visione idealistica quella che fa sì che uno pensi che già in epoca Omerica i greci avessero un cosmos uniforme perfetto quando andiamo a guardare i babilonesi addirittura i sumeri noi non troviamo una parola per indicare la sfera non esiste e in ebraico vediamo che le parole usate per la sfera ma nell'ebraico tardo non nell'ebraico biblico sono quelle che si usano per i cesti e che oggi vengono usate per indicare il football quindi si parte dal cesto dalla palla e poi per inferenza quando prevale l'idea che su una superficie sferica astratta si può collocare il cosmo secondo un'idea che è filosofica cioè quella che è un dio perfetto non può che aver creato una figura geometrica perfetta ma tutti gli astronomi qui mi diranno che quella è un'illusione perché quando si è capito che ad esempio il moto dei pianeti non è perfettamente circolare ma ellittico e allora salta infatti la povera insomma ci sono state dei contrasti contro coloro che osavano immaginare un moto non circolare perché come mai come avrebbe mai potuto Dio perfetto creare moti imperfetti e quindi con tutte con tutte le conseguenze vedete come poi la cosmologia e anche l'idea filosofica a volte della cosmologia può essere innovativa ma a un certo punto la sfera è un limite perché noi sappiamo che non tutto si può spiegare in quel modo fatto sta comunque che i babilonesi le popolazioni iraniche le popolazioni indiane i cinesi i cinesi arrivano indipendentemente all'idea di sfera ma tra il primo secolo avanti e il primo dopo non abbiamo modo di poter dimostrare che avessero una concezione arcaica di un universo come mundus come una palla perfetta ecco quindi attenzione perché l'errore tipico è quello di ragionare sui sistemi degli antichi dando per scontato le regole che per noi sono normali per me è normale che uno concepisca o veda quel che vedo io e attenzione molte volte non è così cioè dobbiamo ritrovarlo nei testi se voi infatti andate a vedere quel che succede nel mondo egiziano andate a pagina 11 vedete che io vi ho dato una bella rappresentazione della dea Nut la dea della volta ma questa volta è ben lontana dalla sfera è una schiena di una divinità ma non abbiamo modo di attribuire al mondo egiziano la acquisizione a priori filosofico spirituale di una sfericità dell'universo i greci lo faranno con Platone con l'idea delle sfere omocentriche arriveranno con Tolemeo con padre Tanzella ricordavamo qualche giorno fa che ad esempio i cristiani nestoriani quindi la chiesa siriana e poi di Persia adotteranno la visione di Teodoro di Mopsuestia e soprattutto di Cosma in Dicoprestia immaginando il cielo come il cofano del Tabernacolo del Tabernacolo dell'Arca dell'Alleanza quindi un cosmo concertante non trovate più niente dal punto di vista astronomico se cercate di fare i calcoli con il Tabernacolo e attenzione questo c'è un aspetto paradossale una volta si domanda ma com'è che il mondo il mondo occidentale cristiano non ha storto tanto la bocca nei confronti della cultura astronomica greca tolemaica perché quella cultura si contrapponeva direttamente a parte il fatto che funzionava era corretta ma si contrapponeva a una visione considerata ereticale quella dei Nestoriani quella dei Duofisiti che però attenzione erano più confessionali nel senso che si dicevano Dio non può non aver creato il mondo se non a modello dell'arca dell'alleanza quindi vedete che un modello divergente consolida però altre tradizioni cristiane su una posizione che per molti secoli sarà quella scientificamente più vantaggiosa poi sempre con Don Tanzella dicevamo attenzione che molti accusano il povero Tolemeo di essere colpevole di aver frenato la scienza ma in verità Tolemeo non ha mai detto che il mondo sarebbe stato così come lui lo descrive nel libro undicesimo dell'Almagesto mette le mani avanti e dice io non sono un filosofo sono un fisico e il mio scopo è soze in ta fenomena salvare i fenomeni cioè io vi dico quel che troverete fra 12 giorni fra un mese con l'effemeridi dei pianeti e secondo gli strumenti di calcolo e geometrici che io vi propongo quindi le sfere omocentriche con le quante eccetera eccetera non vi sto dicendo che quello sia vero io non ho gli strumenti per dirvi che la natura è così e che Dio l'ha fatta così io vi dico però che usando quel modello voi ritroverete correttamente i fenomeni ovviamente quella è una è una riflessione che normalmente nella storia della scienza viene messa sotto il tappeto perché è più comodo a volte dire ah tolemeo il colpevole la colpevole c'è molto di più ed è molto interessante vedere come un uomo dell'antichità fosse capace attento un ritorno sì professore no io volevo solamente l'intervento per dare noi abbiamo abbiamo ancora la mezz'oretta dopo no abbiamo dieci minuti e poi dopo perfetto adesso abbiamo ancora dieci minuti bene allora quindi mi sembrava giusto ricordare però l'importanza l'importanza di tolemeo e anche del fatto che quando l'eredità tolemaica viene viene presa chi la conosce bene sa che c'è una ricchezza maggiore a disposizione riflettiamo brevemente ora sul su uno dei temi più importanti che è quello della della creatio ex nilo quando noi leggiamo il libro del genesi ci troviamo di fronte a un passo che io vi ho messo per esteso a pagina 12 in cui si dice in principio Dio creò i cieli e la terra e la terra fu senza forma e vuoto e oscurità sulla faccia dell'abisso e lo spirito vento ruà di Dio aleggiava sulla faccia delle acque e Dio disse ci sia luce e ci fu luce allora questo passo è oggetto ovviamente di chilometri di di letteratura noi possiamo interpretarlo ed è stato interpretato su due fronti radicalmente opposti una come affermazione di inizio assoluto l'altra come affermazione volta a descrivere le condizioni del mondo quando Dio avrebbe iniziato la sua opera ordinatrice attenzione nel caso uno dica è tutto così a priori creato da Dio anche l'abisso sarebbe creato da Dio quindi c'è c'è un problema ripeto che è stato trattato in modo diverso ricordiamo che il mondo ebraico il mondo cattolico il mondo protestante nelle sue diverse direzioni prende posizioni differenti quindi questo è un argomento veramente interessante dal punto di vista della riflessione ma una come dire il rasoio di Occam non non l'avrete o meglio ognuno resterà della sua opinione dirà io ritengo che la presenza del Tecom la presenza di tutti i riferimenti a Tiamat e all'abisso l'opera ordinatrice di Dio può prevalere su una visione che invece dice è stato tutto creato ex enilo dalla divinità ma dobbiamo dire però che il primo testo che normalmente noi consideriamo evidenziare una creatio ex enilo è quello del libro dei Maccadei nel secondo libro dei Maccadei 7-28 noi abbiamo a che fare con una frase in cui una madre dice al figlio vittima di sottotortura sostanzialmente da parte dei dei seleucidi dice ti scongiuro figlio a pagina 14 contempla il cielo e la terra osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti e poi esende il verbo il verbo che indica fare non da cose preesistenti non dalle cose che sono tale è anche l'origine del genere umano quindi qui per la prima volta noi abbiamo una terminologia tranchante chiarissima Dio ha creato da e ciò che ha creato non esisteva prima in assoluto cioè non aveva usia preesistenza perché huk ex honton don da cose che erano in precedenza anche qui esegesi molto molto ricca ma certamente quindi influssi c'è attenzione ad altre culture che distinguono tra ciò che era ciò che esisteva da ciò che non esisteva grande discussione come l'altra opera che viene messa in connessione che io vi ho citato è quella di Pietro secondo lettera e 357 in cui si dice ma costoro dimenticano volontariamente che i cieli esistevano già da lungo tempo e che la terra uscita dall'acqua e in mezzo all'acqua ricevette la sua forma grazie alla parola di Dio e che per queste stesse cause il mondo di allora sommerso dall'acqua perì ora i cieli alla terra attuali sono conservati dalla medesima parola riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina degli empi qui vedete la descrizione di nuovo ambigua perché alcuni dicono no attenzione qui sta descrivendo qualcosa che in parte c'era e che in parte poi è stata rifondata esigesi non dico che sia quella corretta dico che c'è un dibattito esegetico su questa fonte molto più complesso che su quella del libro dei maccabei sul libro dei maccabei normalmente come dire nessuno ingaggia una battaglia per sostenere che non ci sia l'idea della creatio ex vivo in verità la figura a cui noi dobbiamo la riflessione teologico filosofica più ricca e che dovrebbe essere forse più conosciuta infatti io gli ho messo anche una bella icona quella di San Teofilo di Antiochia che si festeggia il 13 ottobre e che trovate a pagina 16 quindi San Teofilo di Antiochia che è un intellettuale oltre che un religioso del secondo secolo dopo Cristo patriarca di Antiochia morto tra il 183 e il 185 scrive un'opera che tra l'altro è accessibile anche online sia in greco sia in traduzione inglese che è l'apologia ad autolico e nel capitolo 2.10 egli dice e da prima la pagina 17 dato il testo greco e la traduzione e da prima essi ci insegnarono con unico consenso che Dio fece tutte le cose dal nulla letteralmente dalle cose che non esistono quindi ripresa una terminologia che troviamo anche nei Maccabelli poiché il nulla fu coevo con Dio ma egli essendo il luogo proprio di se stesso e non ha bisogno di nulla ed esistendo prima delle ere voleva creare l'uomo da cui potesse essere conosciuto per lui dunque egli predispose il cosmo infatti colui che è generato è anche necessario ma colui che è increato a Genetos non ha bisogno di nulla attenzione ricordatevi che nel credo quando si dice generato non creato si dice in greco Genetos uk poiumenos e allora tutto diventa più chiaro perché quando io chiedo ai miei studenti quando recitate quel versetto tutte le risposte sono allora io ho duofisiti monofisiti ariani ho tutte le confessioni possibili curiosamente tutti dicono di essere cristiani cattolici nessuno ma perché perché il testo andrebbe letto in greco diciamo le cose come stanno cioè Genetos uk uk poiumenos dice generato in questo caso tra l'altro da se stesso ma non plasmato non fatto allora lì sì che il testo brutalmente è chiaro e uno sa quello che sta dicendo questo in una piccola nota per dire che purtroppo il cristianesimo è una religione difficile perché ha un linguaggio teologico filosofico se uno ne vuole avere un dominio dal punto di vista epistemologico e teologico che a volte devo dire fa sempre comodo soprattutto quando si fa storia delle religioni e allora uno si trova con gli studenti che conoscono l'islam conoscono la religione dei sumeri ma hanno le idee più bizzarre sulla religione che loro praticano anche quello scusatemi qui è una piccola non è una bacchettata ma dico attenzione che a volte un po' di abc aiuta perché ti dà delle coordinate importanti e poi diventa fondamentale nel capire il dialogo interreligioso ma tu come fai a capire il dialogo interreligioso se non conosci le colonne di coloro che dialogano tra di loro capite è un pasticcio grazie allora grazie no 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 ancora 5 minuti prego ecco dicevo che Teofilo si muove circondato ormai da un pensiero che matura nel cristianesimo matura perché è maturata l'agenda filosofica quello che io vorrei dire quindi è non ingaggiamo a volte battaglie senza risoluzione cioè dibattiti che diventano confessionali in modo doioso su Genesi dicendo ah ma nel 1300 avanti Cristo questi avevano un'idea della creazione Nilo come la può avere Peofilo di Antiochia scusatemi è come se io chiedessi a uno di voi che fa l'astronomo dico un vostro collega di 150 anni fa poteva porsi certe domande che vi ponete voi oggi e allora voi lo accusate oppure gli attribuite delle cose che non poteva neanche immaginare cioè anche nella storia del pensiero dell'umanità si va su alcuni temi ci sono delle intuizioni ma su cose così profonde voi vedete che Teofilo ha in mente Taziano che l'argomento poi circola in Ireneo in Origene cioè c'è un un momento un po' come quando anche nella scienza viene fuori una una concezione nuova però uno si accorge che ci sono due o tre lavori che escono da parti diverse del mondo magari a distanza di una settimana di un mese l'uno dall'altro e che vanno in una certa direzione cioè i tempi sono maturi perché sulla base di tutta un'eredità spirituale esegetica filosofica si arriva a chiarire una intuizione questo secondo me è l'elemento sul cui io vorrei che si focalizzasse la vostra la vostra attenzione perché ad esempio un'altra religione che io conosco molto bene che è lo zoroastrismo è molto incerta sulla creatio ex nilo nella tradizione più antica è difficile poter affermare una una presenza del genere nei testi più tardi diventa più chiara l'idea che soprattutto l'anima umana e la dimensione umana è una creazione completamente libera e a priori al di fuori dell'utilizzo di qualcosa di preesistente ma attenzione è anche palese il dialogo con i cristiani e con i greci cioè così come l'Iran interagisce col mondo ebraico e col mondo giudaico cristiano allo stesso modo il mondo giudaico cristiano influenza il mondo iranico ad esempio a un certo punto in Iran noi troviamo la dottrina dell'apocatastasi l'inferno viene distrutto da un fiume di lava non di fuoco come in origine o in san clemente alessandrino perché perché in Iran il fuoco è sacro quindi non può esserci nell'inferno è una divinità il fuoco in un certo quel modo quindi e se mai c'è il ghiaccio come nella giudecca di Dante l'elemento interessante questo ma è chiaro che il mondo cristiano ha giocato un ruolo importante come modello di influenza voi non dovete dimenticare che il mondo cristiano in Iran e in Asia rappresenta un'agenzia di trasmissione culturale e scientifica altissima e che quindi certi elementi dottrinali teologici che noi troviamo anche nel mondo arabo hanno avuto un'influenza straordinaria soprattutto da parte della chiesa di Siria la chiesa siriaca tanto quella come dire legata a Bisanzio quanto quella duofisita che poi verrà chiamata Nestoriana per comodità sono agenzie culturali altissime che svolgono una funzione importantissima ad esempio nella medicina oltre che nell'astronomia quindi attenzione a una visione non solo di tolleranza ma una visione di sensibilità nei confronti dei ruoli e del fatto che le religioni dialogano tra di loro a volte dialogano senza saperlo nel senso che io sono arrivato e con questo mi avvio alla conclusione di questa prima parte a un'idea per cui nessuna religione prende esplicitamente da un'altra quando parliamo di mondo antico noi non possiamo pensare al fatto che stiamo ragionando con dei matematici dei fisici che dicono ah io ho letto questo trattato il mio collega mi ha convinto quindi prendo questa sua idea e la innesto nella mia dottrina le religioni non funzionano così ma è chiaro che nel momento in cui io mi misuro con una civiltà che ha una certa sensibilità ad esempio sul peccato o sul dolore o sulla morte e trovo dei messaggi che non sono incompatibili con le mie origini e le mie categorie quell'esempio può diventare uno stimolo affinché io arrivi a dare delle risposte simili quindi è chiaro che c'è un influsso ma nessuno dirà di aver preso dagli altri è la viciniorità è il fatto di vivere negli stessi bazar di andare dallo stesso sovrano di partecipare ai dibattiti di corte di chiedere aiuto perché c'è un medico o una persona dell'altra comunità che alla fine fa circolare nozioni che a un certo punto uno dice ma sì ma questa cosa la pensiamo anche noi professore la ringraziamo la ringraziamo tantissimo la ringrazio a nome di tutti noi qui siamo anche a nome di tutte le persone collegate ci ha mostrato veramente come lo studio del mito non sia qualcosa confinato così all'erudizione ma abbia un'importanza per il dialogo tra le culture e anche per la comprensione della nostra contemporaneità quindi grazie davvero per questa ricchissima relazione